I cristiani fanno una nuova modalità di avere fra loro e di comportarsi, la propria modalità, no? Una modalità, lasciala tranquilla, Dio parla per i bambini, lasciala, lasciala, lasciala. E quella modalità cristiana, eh? Questo è una cosa che non sempre pensiamo a questo. Essere credenti in Gesù ci rende a tutti noi corresponsabili, uni degli altri. Ma guarda quello, il problema che a me non importa, è cosa sua. No, fra i cristiani non possiamo dire. Voglio un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. E soltanto io vorrei incominciare per farvi una riflessione. Tutti noi abbiamo visto questa ragazza tanto bella. E poi è bella, perché è bella. E poverina... Poverina è vittima di una malattia e non sa cosa fa. Io domando una cosa, ma ognuno risponde nel suo cuore. Ho pregato per lei? Vedendola, ho pregato perché il Signore la guarisca, la custodisca. Ho pregato per i suoi genitori e per la sua famiglia. Sempre che vediamo qualche persona sofferente, dobbiamo pregare. Che questa situazione ci aiuti sempre a fare questa domanda. Ho pregato per questa persona che ho vista, che si vede che soffre. Sono lieto di accogliere le realtà parrocchiali. Grazie. 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 Grazie.